Start al camionato di Serie D. Per la prima giornata 22-23 del gruppo F, il neopromosso termo di 1920 è atteso sul difficile campo del Pineto. Trasferta subito impegnativa per gli uomini di mister Raffaele Esposito, con una squadra esperta che da anni milita nella quarta serie. Giolo Rossi invece che tornano tra i direttanti a distanza di sette lunghi anni dall'ultima partecipazione. Atletici che vogliono partire subito bene, centrando un risultato positivo, ma non sarà facile. Tornando al campo, la squadra è pronta per questa prima battaglia. Contro i Terramani giocherà l'undici migliore, quello che dà più garanzie al mister. L'obiettivo deve essere la salvezza e la rosa che è stata allestita può tranquillamente raggiungerlo, a patto che si affrontino tutte le partite con lo spirito giusto. La formazione dovrebbe vedere Mora tra i pali, Cavaiola, Carrozzino, Cestaro e Di Stefano in difesa. Centrocampo a tre con Pesce, Lorusso e Cigliano. Carnevale aggirà dietro le punte, Baldè e Filogamo. Di contro ci sarà un Pineto che davanti ai propri tifosi vorrà subito centrare la vittoria e far valere il fattore. Campo a Bruzzesi che puntano tutto sull'attaccante camerunense 23enne Jean B. Pericolo numero uno per la difesa giallorossa. Si prevede una partita aperta da 1x2, con fisco di inizio fissato alle ore 15 al Pavone Mariani di Pineto Termoli 1920 e stata affidata al signor Gavini della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti di linea De Simone e Dattilo, entrambi di Roma 1.